Allora, articolo pubblicato il 5 giornalio 2024, intervistato Akio Yoko, presidente della Capsule Corporation Tokyo e produttore esecutivo della serie Dragon Ball Dragon Ball Indomabile, ereditare la missione, due punti, una strategia globale per raggiungere la prossima generazione Con Akio Yoko, il presidente della Capsule Corporation Tokyo C'è già dal titolo ragazzi Si mette subito sul tavolo Quali sono le intenzioni Una strategia globale per raggiungere la prossima generazione Ora leggeremo, insomma, poi vi dirò nel complesso quello che penso Però mi sembra abbastanza ovvio, oltre che chiaro Che il brand di Dragon Ball, se vuole Vivere ancora per molti anni Ha bisogno di puntare Non solo sullo zoccolo duro dei suoi fan che siamo noi Anche chi è più grandi di noi E quelli che sono cresciuti in quest'ultimo decennio con Dragon Ball Super Ma c'è bisogno di dare un altro punto di partenza Perché, voglio, sono passati dieci anni In dieci anni crescono nuove generazioni e nascono nuove generazioni Non ci sta niente da fare Quindi Poi non solo la prossima generazione Ma anche una strategia globale Il brand di Dragon Ball In realtà, se ci pensate bene Ha iniziato ad avere un impatto globale Univoco Unificato Ma possiamo dire forse Probabilmente dalla creazione dei Dei Del Gioco per telefono Non per dare il merito al gioco del telefono E per farvi capire che Il periodo più o meno È quello risalente al Al marketing Da quando, insomma È nato Dragon Ball Super Perché prima di quello A parte una pausa lunghissima Di quasi vent'anni Dalla fine del manga di Dragon Ball Il vero marketing globale Non esisteva Era solo Una conseguenza Tanto è vero Anche per un fatto Di generazione Anche per un fatto di Di raggiungimento dei mezzi Oggi è più semplice Grazie a internet Prima era un po' più complicato Però effettivamente Se noi pensiamo a Prendiamo noi Come esempio Come italiani Noi il boom di Dragon Ball L'abbiamo vissuto Quando Dragon Ball Era già finito E ai giapponesi Che cazzo Gli ne fregava Di quello che accadeva All'estero Non gli fregava niente Aveva fatto Il suo Aveva fatto Il suo periodo di splendore Dragon Ball L'avevano spremuto Finché potevano spremere Toriyama Fino al Al 95 Poi Dragon Ball Ha vissuto Per anni Di luce di flash Anche D'occa si chiama Ancora Dragon Ball Z Figurati Infatti Quello è un chiaro Esempio Vabbè Comunque Langevo l'intervista Poi insomma Se c'è qualcosa Da aggiungere Che posso aggiungere Io Lo aggiungerò Vediamo se Se è abbastanza Chiaro Allora Dragon Ball Celeberà il suo 40esimo anniversario Nel 2024 E questo Ve lo sto dicendo Da un po' Lo sappiamo Dragon Ball è un'opera unica E sorprendente Va bene Piuttosto che pensare All'opera In termini relativi O uniformi La nota fondamentale Pensare a come dovrebbe Essere realizzato Come opera d'arte Ok Adesso È importante Come affermazione Sembra una strozzata Perché dare importanza Come opera d'arte All'opera Appunto Vuol dire Dare anche più impegno In quello che si realizzerà Ricordate il famoso Episodio 5 Di Dragon Ball Super Ecco Quella cosa là Non si deve ripetere Mai più Penso che Akio Yoko Ormai L'avrà capito In qualità Di produttore Esecutivo Di un'opera Dalla longevità Senza precedenti La mia missione È espandere E trasmettere Ciò che il creatore Originario Akira Toriyama Ha creato Vabbè Qua è un pompino 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 con saliva A Toriyama Perché Fosse Toriyama Dokkan è uscito prima Sì 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 Dokkan Dokkan è uscito Per pubblicizzare Il film Della resurrezione Di F I primi due film Erano ancora Sotto brand Dragon Ball Z Ragazzi Non fate confusione Dragon Ball Super È nato dopo Il film Di Freezer Magari il progetto Era già In corso Però Magari sarà successo Come è successo Per Daima Recentemente Che i rumor Volevano che si chiamasse Dragon Ball Magic E poi Ad una settimana Dall'annuncio Daima Magari sarà Successo una cosa del genere Magari al decimo anno Cambia il nome al gioco Ma guarda che io Me lo aspetto Come hanno fatto Esattamente Per Dragon Ball Z Budokai Da Ingaishi Che l'hanno chiamato Dragon Ball Sparking Zero È capace che Con l'unificazione Il gioco Perderà il suffisso Dragon Ball Z Si chiamerà solo Dragon Ball Che non ha più senso Chiamarlo Dragon Ball Z Cioè perché Crearsi questo Filtro Chiamandolo solo Dragon Ball Z Se già attualmente Il gioco Non ha quasi più Nulla a che fare Con Dragon Ball Z C'è di tutto Nel gioco Suona male Dragon Ball Dock and Battle Lo Z Fa tanto di suono Ma è l'abitudine La perderai Anche Super Morirà come dominio Ma infatti Non si chiara Neanche Super Tranquillo Dabbè Comunque Rileggo questo Passaggio Perché è interessante In qualità Di produttore Esecutivo Di un'opera Dalla longitudina Senza precedenti La mia missione È espandere E trasmettere Ciò che il creatore Originale Gli troviamo a creare Continuerò a produrre Opere Come serie anime Film E giochi Nei prossimi dieci anni E questa È una bomba È una frase così Banale È una bomba Perché Continuerà a creare Serie Film nuovi Giochi Giochi Nuovi A curare Quelli già esistenti È comunque Una bella promessa Che per i prossimi Dieci anni Ancora Ancora per dieci anni Saremo accompagnati Da questa roba Andiamo avanti Adottare ciò Che è popolare Al momento Non aumenta Le probabilità Di successo E questa è un'altra frase Bomba Questo è proprio Uno schiaffo In faccia Non mi farò Influenzare Dalle tendenze Attuali Ma creerò Opere Che ritengo Saranno Abbastanza buone È bello Quello abbastanza buone Per non Sai Per non creare Per non crearsi Troppe Troppi margini Di errore Abbastanza buone Buoni Non possiamo dire Faremo dei capolavori Che piaceranno a tutti No Questo è impossibile Letteramente impossibile Ogni generazione Di Dragon Ball Ha il suo Momento Il suo Meno mio Il termine Il suo Zoccolo Duro Ecco Quindi Impossibile Poter accontentare Tutti Impossibile Però una cosa È certa Credo Meno che Non siete Veramente Mangiatori Di merda Una cosa È certa Se Il prodotto È artisticamente È tecnicamente Buono Non ci si può lamentare Poi La trama I personaggi Ma là Non è impossibile Accontentare tutti E lo possiamo Già vedere Basta guardarci Indietro Di un anno Guardare il film Di Di super hero Ci sono persone Che hanno amato Alla follia Questo film Persone che Lo odiano Senza neanche Sapere argomentare Il perché È perché Ci stanno piccole Gonne È perché Mamma Di una puttana Scusate Madri Di questi Poveri esseri Voi Che li avete Cacati Quindi Impossibile Accontentare Tutti Trasciando Il discorso Computagrafica Eccetera Su quello Su quello Già con Daima Vedremo un prodotto Completamente diverso Perché sono tornati All'animazione Classica Sicuramente Ci sarà anche Della CGI In In Daima Certamente Ci sarà In La CGI In Daima Ma Penso Hanno Hanno cominciato A capire Come Sfruttarla Per Aiutarsi Più che altro Impossibile Comenta la proprietà Di successo Lettamente ha detto Tutti quelli che Leggono il manga Di Dragon Ball Super Perché vorrebbero Le saghe di Moro e Granolo Non verranno Accontentati Perché non vuol dire Che Non ci darà Certezza Che sarà un successo Non mi farò Influenzare Dalle tendenze Attuali Ma creerò Opera Che ritengo Saranno Abbastanza Buone Per come L'ho percepita Io Tutti i fan Che vogliono La roba Di Toyotaro Ma Ma guarda Che Ma Penso Pure tutti quelli Che vorrebbero Vedere il continuo Di Super Cioè Questa frase Ragazzi È potentissima Perché vuol dire Pure Non Non avere Per forza Di cose Il seguito Di Super Tanto è vero Che questo è un esce Daima Che si va a collocare In un Momento Della storia Che ancora Non si è capito Comunque Andiamo avanti Quando la mania Si era placata Bello Allora C'è stato un tempo In cui la mania Di Dragon Ball Che si era diffusa In tutto il mondo Negli ultimi 40 anni Si era placata E certo Per 20 anni Non avete fatto uscire Un cazzo Quando sono diventato Il capo Della Dragon Ball Room Di Shuecha Nel 2016 2016 Subentrata E' entrato E' entrato E' entrato Akio Yoku Ed è stata creata La Dragon Ball Room E' nato Dragon Ball Super Se no Mi è stato Dragon Ball Magari è andato In Sud American Nei metà Anni 90 O comunque 2000 Se ci vai Nel 2016 Dopo 16 anni Penso che i sudamericani Non tutti Sono ancora Cioè non tutta La maggioranza Sono generazione nuova Quindi Vabbè comunque Anch'io pensavo Che fosse il risultato Dell'affidarsi Grazie Gianluca 1.551.991 Per i 5 mesi Un abbraccio a te Mi sono perso Ah ok Il feedback dei fan E' stato debole Potrebbe essere stato All'apice della sua proprietà Quando eri in onda In Sud America Anch'io pensavo Che fosse il risultato Dell'affidarsi Allo zelo Vecchio stile Ok Pertanto A partire dal film Dragon Ball Super Brawl Nel 2018 Abbiamo intrapreso Iniziative Come la partecipazione Attiva agli eventi Ecco qua E' vero Effettivamente Che Prima di un certo Periodo storico In generale Giapponesi Non è che creassero Chissà quali eventi All'estero Cioè Forse L'unica azienda Che si era L'unica azienda Grossa Che si era Diffusa all'estero Con eventi Era Nintendo E la Pokemon Company Ma a livello Di Di Intrattenimento To animation Questa roba qui L'animazione Non mi sembra Abbiano mai fatto Chissà cosa All'estero In passato Quanto meno Mi preoccupava il fatto Che Dragon Ball Non fosse stato Espanso In tutto il mondo Cioè in realtà Si Però Non come Se lo aspettavano I giapponesi All'inizio Non vendavamo La forza E il potere Di diffusione Dell'opera No aspetta All'inizio Non vedavamo Ok Non vedavamo La forza E il potere Di diffusione Dell'opera Dobbiamo dare Un'occhiata Più da vicino A questo E vedere Se possiamo Fare di più Dovevamo Vedere Forse Non stiamo Cercando un approccio Unico per tutti Ma piuttosto Stiamo cercando Eventi come I campionati mondiali Di Dragon Ball Ah che sta parlando del presente L'espansione dei giochi La creazione di strutture E qualsiasi altra cosa Possiamo fare Creazione di strutture Ragazzi Io ve l'ho detto Mesi fa Cioè Ve lo dissi mesi fa Questo Da quando ha preso in mano La L'azienda nuova Chiamandola Capsule Corporation Tokyo Io ve lo dico oggi Cioè Ve lo ridico oggi Questo creerà I negozi In giro per il mondo Dove vendono Solo gadget Di Dragon Ball Esattamente come Esistono i Pokemon Center Al di là Degli eventi Campionati Stronzate Questo vuole fare Disneyland Però Kotori ama Lavoreremo Lavoreremo Su Su di loro In parallelo Ok giusto Mai prima D'ora C'era stata Una ricezione Di anime Così simultanea In tutto il mondo E grazie a cazzo Esiste lo streaming Si può dire Che ora Siamo in grado Di fare cose Che prima Non avevamo Nemmeno considerato Allora Fin dall'inizio Ho cominciato A pensare All'espansione Oltreocena Di Dragon Ball Con Daima Che uscirà Nell'autunno Del 2024 Accertiamo la sfida Di creare Una serie anime Con una storia Completamente originale Sono felice Che tutti i nostri Lavori Siano stati Ben accolti All'estero Daima È stato annunciato Al Comic Con Di New York La serie Dragon Ball È riconosciuta In tutto il mondo Non ha senso Annunciarlo Da qualche Da qualche parte A casa Ah dici Nel senso Non aveva Non aveva senso Annunciarlo A Tokyo In patria Sostanzialmente Volevano subito Far capire Che sono presenti Anche all'estero E quindi Dove presentare Daima Presentiamo la Al New York Comic Con Ci sta Il Comic Con È un ottimo posto Per annunciare Il tuo lavoro Infatti È un consiglio Anche ai prossimi Imprenditori Volete annunciare Un prodotto Annunciato dal Comic Con New York Tanto per cominciare Lì si riuniscono Persone che comprendono Il valore della cultura Beh insomma Sono americani Abbiamo scelto Il Comic Con Per la sua capacità Di diffondere Il nostro lavoro In tutto il mondo L'espansione all'estero È attualmente considerata Un mezzo necessario Per spargere la voce Sul nostro lavoro Se confrontiamo Il flusso Di titoli manga Venduti In formato libro E poi diventati Anime Anime A fiume Un fiume Significa serie Penso Voglia dire Voglia dire Anime Anime in serie Gli sviluppi Gli sviluppi Oltroceno Sono stati Quelli che hanno Seguito Il flusso Immagino Nel senso Che in passato Era un fan Nel senso Che oltroceno L'espansione Segui più tardi Sta traduzione È fatta Abbastanza col culo In questa parte Sono convinto Che Dragon Ball Sia stato Pioniere In molte cose Come anime Giapponese E beh Ho il senso Della missione Secondo cui Se c'è qualcosa Che nessun altro Ha fatto Devo continuare A sfidarlo Per come L'ho capita io Che è tradotto Render in merda Stavarte Sostanzialmente Lui dice Che L'espansione All'estero E poi Fa il confronto Con quello Che effettivamente Magari in america Viene venduto Come manga Quei pochi manga Hanno anche Un seguito A livello Di Intrattenimento Esempio Naruto C'ha le sue vendite E anche la serie animata All'estero Andava bene One Piece No One Piece Prima di avere Il botto All'estero Ha dovuto Aspettare 20 anni Che Netflix Facesse Una serie TV di merda Dragon Ball Dragon Ball Fortunatamente Il riscontro Lo aveva Però Come sappiamo Benissimo Ce ne lamentiamo Sempre Gli americani Hanno avuto L'approccio Con Dragon Ball Con Dragon Ball Z Però questo è un errore Che hanno fatto Loro Cioè È bello Dare la colpa Gli americani Che non capiscono niente Non hanno mai visto La serie La prima serie Ma la colpa È stata loro Che ai tempi Non hanno creduto All'estero E hanno venduto A quattro Spicci La serie Dragon Ball Z Solo dopo Hanno venduto La prima serie Ma ormai Erano belli Che formati Vabbè Comunque Il settore È eccessivamente Competitivo Ok Ebbè È difficile Vedere la concorrenza Tra gli anime A causa Dell'emergere Di siti Di streaming Eccetera La concorrenza È diventata Eccessiva Non dobbiamo Creare una situazione In cui un manga Diventa anime Una volta Finito l'anime Il contenuto Finisce così Com'è E quante volte Succede? Eh Quante volte Succede Che una volta Che il manga È finito E la serie È finita Non c'è più Interesse Per quel brand Vedete Seven Deadly Sins Ma meno male Ma meno male Che Seven Deadly Sins Sta continuando Con la Con la nuova serie Però Comunque Rispetto a prima L'interesse Su Seven Deadly Sins È calato A picco Cioè non è più Come prima Non è come era Quando è uscito Seven Deadly Sins Beh Comunque Messo in mezzo Seven Deadly Sins Ma in realtà Possiamo prendere Qualsiasi altra Opera Come confronto Anche un Demon Slayer Che Ha scosso il mondo Per quanto Era bellissimo An animale Bas Finito Finito Demon Slayer Finisce Non se ne parla più Perché Non ha più Nessun impatto A livello economico Quindi 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 Vabbè Qua sta facendo Un discorso generale La situazione ideale È creare una situazione In cui lo spettatore medio Vede il contenuto Siamo in un ciclo Di consumo E per alcuni aspetti Il ciclo sta diventando Di breve durata Non penso sia affatto positivo A avere un boom Che si accumula E poi si esaurisce Il che può essere Un fattore Che fa sì Che i contenuti Non durino a lungo Sarà dura Se non creiamo Un luogo In cui Competere Diversamente Dagli animi Come contenuti È consigliabile Che le opere Che sono popolari Ora Vengono distribuite Simultaneamente In tutto il mondo Per ripetersi Generazioni E raggiungere Di dire a ciascuna Di dire a ciascuna azienda Penso che dovresti farlo Mi sforzo di essere Un catalizzatore Per questo Attraverso varie discussioni Affinché i contenuti Giapponesi Possano continuare È necessario Di avere qualcuno Che possa dire Lo status quo Non è abbastanza buono Cioè praticamente Ha fatto una critica A tutti quelli Che lavorano Nelle aziende giapponesi Ha detto Un sito buono Cioè avete Questo potere Mediatico Non lo sapete Sfruttare Ma avete letteralmente Detto questo E se ci pensate È vero Che non è che esiste Un'industria Fortissima Giapponese Che Che faccia andare avanti Fortissimi I loro prodotti Una volta che è finito Un prodotto Un brand Cioè Una serie Muore Cioè veramente Sono poche Le cose Che Che vengono fuori Dal Giappone Che hanno Così tanta durata Ma lasciamo stare One Piece Che è in corso Che One Piece È in corso E allora Cioè Finché è in corso Avrà sempre I lettori E quelli che lo seguono La Dragon Ball Lo voglio È stato fermo Per vent'anni È comunque Avuto Risonanza Cioè Questa è la grossa Differenza Quindi Mo' bisognerà vedere Quando finirà One Piece Se Nel tempo Avrà Avrà comunque Lo stesso impatto Io spero di sì Sarei contento Se Negli anni A venire Quando Finirà One Piece Ci sarà ancora Ma già si stanno Adoperando Tant'è vero Che Netflix Dopo la serie Ha subito Messo in chiaro Che farà La serie animata Da zero Cioè Fanno il remake Che vuol dire Fare il remake Di One Piece Quando c'è già In corso Ancora la serie Anime Vuol dire Investire sul futuro Dare un punto Di inizio Nuovo Alle nuove Generazioni Quando finirà One Piece Magari Nel frattempo Sarà ancora in corso La nuova serie Anime E la serie Netflix Telefilm In modo tale Che pure Che durerà Altri dieci anni Ci hanno Dieci anni Di intrattenimento A tema One Piece Allora Akio Yoku Si è laureato All'università Di Uase Da 1993 E è entrato A far parte Di Suecia Dopo aver lavorato Come redattore Capo di V-Jump E è diventato Capo della Dragon Ballroom Nel 2016 Nel 2023 E è diventato Presidente Della Capo C'è diventato Se l'è creato Da solo Produttore esecutivo Di Dragon Ballroom Nato Nel progetto Di Cana Capo Queste sono le foto Bellissime Ma che sta Facendo immagini Questa è La foto Che ho messo Anche su Instagram Al Comic Con E poi abbiamo Questo Allora Non è finito In realtà C'è quest'altra parte Quest'altra parte Dell'intervista Che E vabbè C'è la traduzione Qua Allora Dragon Ball Oltrepassa i limiti L'anime salta nel mondo Per il 40esimo anniversario Di Dragon Ball Nel 2024 La serie verrà riproposta Come un anime Completamente nuovo L'immortale Son Goku Ha scelto Gli Stati Uniti E non il suo paese Il Giappone Come luogo In cui annuncia Il suo ritorno Nel mondo Akio Yoku Presidente della Capsulation Corp Capsulation Corp Tokyo E produttore Della serie E produttore Della serie Si è vestito Da Son Goku Va bene E annunciato Il nuovo anime Al Comic Con La più grande Convention mondiale Di cultura pop A New York Nell'ottobre 2023 Oltre 3000 Fan Hanno applaudito Come aveva detto Domenico L'unico stronzo Che era un applaudito Era quello Che sta col telefono In mano E che ci ha fatto Vedere la live In passato L'espansione Degli anime All'estero Allora Aspetta A parte Gli scherzi Questo ragazzi Come ho detto Ieri sul tema Comunicazione Totale C'è Della serie Oltre 3000 Fan Hanno applaudito Ma non so Quante persone C'erano Alla conferenza 3.000 persone Ok Per Akio Yogi Hanno applaudito Tutte 3000 Pure se Quello stava piangendo Che voleva Moro E Granola Zitto Non conti niente Tutti contenti Con questa comunicazione Gli hanno Gli hanno contati 3000 Applausi Così Così Tutti insieme 3000 In passato L'espansione Degli anime All'estero Veniva considerata Un'extra Il manga Originale E' stato pubblicato In formato libro Vabbè Tanko Buon E' diventato Un successo Ed è stato Poi trasformato In una serie Animata In Giappone Secondo il signor Yoku L'espansione All'estero Era qualcosa Che sarebbe Sempre arrivata Dopo Invece oggi Possia Cioè per i mezzi Che ci sono oggi L'espansione Deve essere Immediata C'è bisogno Di aspettare Dopo Tra l'altro Qua ragazzi Mo Ve lo dico Adesso Se Se questi Si mettono A regime E passatemi Il termine Ma se Si mettono Con la Con la testa E col pensiero Questi distruggono Pure l'editoria Mondiale Se io C'ho il prodotto E lo voglio Esportare All'estero Ho bisogno Di una casa Editrice All'estero Che mi pubblica Ma vale per Sì alle case E le case editrici All'estero Assumeranno Un traduttore E lo pagano E si pubblicano I manga All'estero Per conto Proprio Basta fare Ste comunelle Con gli accordi A tot soldi Per portare Un manga In Spagna In Italia In Francia Ce li pubblichiamo Da soli Ma poi Il traduttore Lai Angelo Lord Io veramente A volte Non ti capisco Non capisco Se ti 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 Inceppi Su certe cose Veramente E mica Deve essere Un traduttore Giapponese Basta pagare Fiorfiorti Quattrini Un Un traduttore All'estero Ma che Ma che ci vuole A me sembra Che ci stiamo mettendo Pure troppo tempo A fare A questa cosa La IA intende No Con l'intendenza artificiale Non riusciresti mai A tradurre Bene Serve comunque Qualcuno Che vive O che sia Quanto meno Originario Di quel posto In cui tu vai A insediarti Nel marketing Perché ci sono Determinate cose Di linguaggio Che sono diverse Quindi Non puoi fare La traduzione Automatica E vai Pubblichiamo Ci vuole sempre Qualcuno Che comunque In qualche modo Abba un collegamento Con quel luogo È come fare Lo scouting Con Con Le società Di calcio Cioè Non è che i calciatori Te li vai a vedere Su PS E te li vai a comprare No Ci si deve essere qualcuno Che c'è Lo scouting In tutte le zone Del mondo Ho fatto un parallelismo Per farti capire Però Il discorso è lo stesso Cioè Non è che puoi Pubblicare in Italia Solo facendo Traduzione automatica Dal giapponese Che dove loro Scrivono i canji In verticale Mentre noi Scriviamo in orizzontale Cioè Con Determinate cose Di comunicazione Che sono competenti Diverse Ci dovrà sempre Essere un intermediario Ci deve stare Forza Un intermediario Fisico Che Conoscano La cultura Del paese In cui Stanno pubblicando Vabbè Comunque Della serie Io mi propongo Se volete Amici Amici Giapponesi Io vi sostengo Sono Qua Visto che ho già capito Quello che succederà Comunque Continuiamo Stiamo 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 Diragando Ma Vi ho dato Una Una greve Sentenza Del futuro Gli basso Episodio Cioè Ce lo potevamo Compra Pure Noi C'è 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 Se pensate quanti soldi Solo me Non è che ha detto quanti soldi ha fatto con Dragon Ball Per tutte le volte Che l'ha mandato in onda E magari l'ha pagato L'ha pagato mille dollari A episodio Ci è rientrata subito Alla prima programmazione Una persona media in Italia Si compra un episodio e mezzo al mese Ma tu una volta che ti sei comprato un episodio Te lo tieni stretto La serie non può andare avanti Se hai investito Mille dollari per un episodio Te lo tieni stretto Lo volete? Vi serve per andare avanti Nelle programmazioni? Vi devi dare due milioni di euro Attualmente l'idea è quella Di espandere la produzione al resto del mondo Mi compro l'episodio con Accattatelo Ma va Vattene a comprare adesso Mi chiuso gli anni 90 Attualmente l'idea è quella Di espandere la produzione Al resto del mondo Senza separare il mercato interno Da quello estero Eh Questo è difficile Per questo Molte volte Quando fanno delle scelte Non capiamo E diciamo Questi sono scemi Ma che fanno? Ma perché devono Pensate quanti cazzi Devono Devono pensare Quante persone Devono accontentare diverse Casino 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 All'estero Non fu vista Come un'opzione Praticabile Dopo aver raggiunto Il record Di 6.53 milioni Di copie Di weekly Shonen Jump Alla fine del 1994 Grazie alla Poverità esplosiva Di Dragon Ball La diffusione Di questa rivista È scesa Di A circa 1.2 milioni Nel 2023 Cioè Praticamente Mi stai dicendo Che Nel 94 Quando la rivista Giapponese Se la leggevano Solo i giapponesi Quindi non c'era Una distribuzione Estera Non c'era Una conoscenza Del prodotto All'estero La rivista Vendeva 6.53 milioni Di copie E oggi 2023 2024 Ormai Che pure i muri Sanno che cos'è Shonen Jump E con One Piece In corso Invece di aumentare È calata È grave Cioè Con la distribuzione Cioè Per Per loro Questa Per noi Sembra Solo un milione E due Di Di lettori In meno Ah faccio Lo cazzo Invece di aumentare In 30 anni Di sviluppo Del brand Del brand È scesa È scesa Ma io È un disastro È un disastro Fallimento Cioè Con il fatto Che c'è Internet Con l'espansione Di Della Della conoscenza Del media In tutto il mondo Sarebbero dovuti Aumentare Le vendite Secondo Secondo il Pwc Non so Che cosa è questa sigla Si dovrebbe andare a controllare Mentre si prevede Che il mercato globale Dei contenuti Crescerà A un tasso anno Di circa 4% Fino al 2027 Il Giappone si posizionerà Al 40esimo posto Su 53 paesi Regioni Con solo Il 2% Del mercato Ah c'è anche La foto allegata Vediamo Normale Ormai ci sono Le scan Manco più giapponesi Prendono il v-jump Non ho capito Però Avranno Un modo Per Per vendere Anche le scan Cioè per vendere Il prodotto digitale Secondo il Mentre si prevede Che il mercato Globale Dei contenuti Crescerà A un tasso Di circa 4 euro In Giappone Si passiamo Foto Eh questo Greve Cioè Noi Cresciamo Più del Giappone L'India Distrugge Tutto Cioè Tipo Ha duplicato Qualsiasi cosa In questa classifica E vabbè Ragazzi Mi sembra Abbastanza Ovvio L'India È un po' Più grande Come Continente Giusto un pelo Il mercato Il mercato Il mercato dei contenuti È stato rivoluzionato Dall'ascesa Dei servizi Di streaming Più di un miliardo Di spettatori In tutto il mondo Consumono opere D'arte Indipendentemente Dal luogo E dal tempo A meno che Non usciamo Dal Giappone Dove il mercato È limitato Come Come Il rescimmia Vabbè Qua penso Stia facendo riferimento A un'opera Giapponese A meno che Non usciamo Dal Giappone Dove il mercato È limitato E combattiamo Per attraversare Il mondo Non saremo In grado Di ottenere Il meglio Dal mondo Gli Stati Uniti Hanno riconosciuto Il potenziale Degli anime Giapponesi Beh Era ora E stanno spendendo Ingenti somme Di denaro Per acquisirli Il budget Per Pluto Un anime Basato sul romanzo Di Nokia Urasawa Beh Manga Che Netflix Ha iniziato A distribuire Nell'ottobre Del 2023 E di oltre 300 milioni Di yen Per episodio Ovvero 45 volte Il budget Abituale Ce ne andiamo conto Allora Normalmente Cioè Praticamente È detto Che normalmente Per fare Un episodio Di un anime In Giappone Ci vuole Quello Quello Che è calcolabile Tra le 45 Volte Il budget Dei 300 milioni Per ogni Singolo Episodio Di Pluto Quanti episodi Sono Pluto 8 Bang Sono 8 Dovrebbero essere 8 8 300 Cioè Netflix Per fare Tutto Pluto Ha speso 2 miliardi E 400 No Di più 2 miliardi 2 miliardi E 400 milioni Di dollari Di yen Scusami Di yen 300 300 milioni Sono circa 2 miliardi E mezzo Di dollari Mi so 300 milioni No Non miliardi Scusami Sempre Sto confondendo 300 milioni Di yen Sono 2 milioni E mezzo Di dollari Circa Anche di euro Facciamo 2 milioni Arrodondiamo 2 milioni Per episodio Quindi 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 hanno speso Quasi 16 milioni Per fare Tutto Pluto Magina Di se Floppavo E Quanto Cazzo Spenderanno Per ogni Il singolo Episodio Di one Piece Della serie Nuova Animata A occhio Penso Almeno 100 milioni Di yen A puntata Dovranno Fare In Italia Non ho sentito Parlare Così Tanto Però Praticamente In Italia Il doppiaggio Italiano Uscito Due settimane Fa Poi Vabbè Comunque Urasawa Per quanto Sia Chissà Per quanto Sia Amato 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 Comunque Un pubblico Abbastanza Di nicchia In Italia Cioè Difficile È Difficile Cioè Non è Stiamo Parlando di Dragon Ball Per l'appunto Oppure Stiamo Parlando di Un'opera O di Un autore Come Kishimoto Oda Cioè Stiamo Parlando di Urasawa Che C'ha Le sue Vendite Ma È Una Nicchia In Italia Non è Che Se Tu Vai Per Strada Incontri Un tizio A casa E Gli Chiedi Tu Lo Sai Che È Un Urasawa Quello Dice Magabù E Ti Spara Invece Se Gli Dici Lo Sai Lo Conosci Dragon Ball Sì One Beast Lo Sai Sì Naruto Sai Sì I Pokémon Sai Sì Cioè Più Ignorante Del mondo Queste Quattro Cose Le Conosci In Italia Dici Urasawa E Capisco Rosaiva Esatto Per Quanto Nel mondo Nerd Otaku Che Dissi Voglia Noi Conosciamo Urasawa Quindi Sappiamo Che Cos'è Pluto Se Vai Per Strada Dici Lo Sai Chi Pruto Magui Cane Topolino Quindi Se Va Bene Conoscono Il Cane Di Topolino La Sfida E Fare Il Salto Verso Il Settore Della Prossima Generazione Molti Giapponesi Sono Cresciuti Guardando Son Goku Nostro Padre Che Diventava Sempre Più Forte Superando I Sui Libidi Ogni Volta Che Incontrava Un Potente Nemico Di Frente Una Situazione Difficile Son Goku Diceva Mi Sto Caricando Godiamoci Godiamoci Di affrontare Nuove sfide Affrontiamo Il mondo Senza Paura Di Fallire A A Cazzo Durissimo E Questo E Lui Con Il Cazzo Durissimo Quindi Sintesi Di Tutto Il Discorso Per I prossimi Dieci Anni Nuove Serie Animate Nuovo Film Nuovi Giochi Non Ci Faremo Influenzare Da Quello Che La Gente Vuole Ma Faremo Dei Prodotti Artistici Fatti Bene Ha Praticamente Già Spoilerato Quali Saranno I Budget Anche Per Loro Perché Se Si Sono Accordati Così Bene A Fare Tutti I Progetti All'estero Presentando Dragon Ball Dime A New York Comic Con E Soprattutto Stipulando Un Accordo Con Disney Per Fare La Serie Animata Di Sandland Che Se Le Cagato Quattro Persone In Croce Vuol Dire Che Questi Qua Stanno Giacendo Così Belli Questi 300 Milioni Di Yen L'episodio Zoom Un attimo Si Denti No No Lasciamo Star Parente Di Di Omatsu Se Studentista Sandland Who Cares Mamma Mia Ragazzi Ragioniamo Su Questa Cosa Cioè Loro Hanno Fatto Sandland In Un Periodo Dove Potevano Tranquillamente Droppare Un Altro Film Di Dragon Ball O Qualsiasi Altra Cosa Che Avrebbe Avrebbe Sicuramente Portato Più Gente Al Cinema Non Se N'hanno Fottuto Proprio Hanno Detto Qua Dobbiamo Far Capire Chi Comanda Hanno Fatto Sandland Il Videogioco Il Film Non È Andato Così Tanto Bene Però A livello Comunicativo No Siamo Contenti La Gente Ha Apprezzato I Roboli Macchina Editoriama Che Bello Siamo Contenti Così Contenti Che Adesso La Serie Adesso Dal Film Partirà Una Serie Con L'appoggio Di Disney Cioè Capisci Che Di Che Stiamo Parlando Vi Ritorno A dire Quello Che Vi Ho Detto Mesi Fa Questi Stanno Mettendo Stanno Proprio Creando Il Nuovo Terreno Da Calpestare Per Il Futuro Un Passo Alla Volta Creeranno Il Toriyama Verso A Parte Dragon Ball Che Vive Di Vita Proprio Cioè Male 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 Va Bene Dragon Ball Invece Tutte Le Altre Cosi Bisogna Coltivarle Spingere Far Capire Che Toriyama E Anche Questo Oltre Che Dragon Ball Quest'anno Sono 40 Anni Si Punta Ai Cento Poglio Si Si Punta A Festeggiare I Cento Anni Del Brand Con Il Brand Ancora Che Avrà Qualcosa Da Dire Con L'attenzione Che Non Cala Mai Con I Parchi Di Divertimento Così Potremmo Andare Sulle Giostre E Invece Di Disneyland Toriyama Land Noi saremo Già morti Però Stiamo Vivendo Un bel Periodo E Finché Saremo In Vito Dragon Ball Ci Farà Compagnia Datemi La serie Animata Di Chrono Trigger Allora I Pezzi Di Merda Michè Ma Tu Ti Rendi Conto Che Se La Droppassero Adesso Non Se La Inculerebbe Nessuno Perché Nessuno Al Mondo Parte Quelli Che Ne Capiscono E che Seguono Ma La Gente Comune Ma Mica Lo Sa Che Chrono Trigger C'ha Il Design Di Toriyama Non Lo Sanno La Gente Normale Sta Roba Non Lo Sa Come Non Sa Nemmeno Che Dragon Quest È Sempre Design Di Toriyama Cioè Oddio Devi Guardi Però Guardi Dragon Quest Ti Rendi Un Pochino Conto Che I Personaggi Somigliano A Quelli Toriyama Quindi Quello Che Dici Tu Magari Lo Potrebbe Fare Ma È Gradualissimo È Una Cosa Super Graduale Di Di Cosa Tratta Crono Trigger È Sempre Una Un GDR Io Non L'ho Mai Onesto Non L'ho Mai Giocato Crono Trigger Lo Conosco Per Fama Lo Conosco Per Ridesign Non Sono Mai Riuscito A Giocarlo Anche Crono Trigger Si Capisce Facilmente Eh Certo Se Sai Che Cos' Crono Trigger Rispetto al Dragon Quest Trigger Lo Sapem Io Mamma Detto Quindi Questa Robba Si 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 Può Fare Si Può Fare Ma C'è Tempo Il Luogo Per Ogni Cosa Come Disse Il Robb Puro Torriamo Si Ascordato Ma Certo Che Si Ascordato Quello Mica Si Lega Sul Dito Tutti I Prodotti Che Fa C'è Quello Fa Basta Che Fa Va Good Good Enzo Comunque Interessante Interessante Io Sto 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 Abbastanza Bene Purtroppo L'impazienza Ci sta Allocorando Vorremmo avere Tutto Subito Ma Siamo nel Flusso Siamo nel Flusso In quanto Tale C'è 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 Meglio Aspettare Ma Fare Ma Fare Roba Fatta Bene Sì Sì Sicuramente Che Almeno Abbio Una Dignità C'è Perché tanto alla fine è quello che lo criticherà ci sarà sempre come ci sono stati quelli che hanno criticato il film di broli come ci sono quelli che clicano di super hero come ci sono quelli che criticano dragon ball super ci stanno ci saranno sempre però finché dragon ball a me sembra sembra quasi che dragon ball almeno vive di questa intoccabilità cioè dragon ball vive di questa fortuna bene o male finché dragon ball siamo tutti contenti agito riamo se gli chiedono di grano trigger ok può essere non lo so e il fatto sai qual è è che l'hanno capito loro anche loro solo adesso l'hanno capito cioè ci hanno messo troppo tempo a capire questa cosa che all'estero si a dragon ball si perdona tutto oddio super ball ne parlano sempre bene anche se ha tanti problemi vabbè ma è facile dopo cinque anni forse amiliano non ti ricordi quando è uscito io mi ricordo benissimo invece tutte le polemiche di quando è uscito di quelli che dicevano le stesse identiche cose che dicono sul film di di super hero me la ricordo benissimo come mi ricordo è ma il broli vecchio troppo troppo più bello il broli vecchio che schifo è questo broli tanto è servito il nuovo broli è servito a inserire nel russo dei personaggi un nuovo personaggio da portarsi avanti anche per il futuro perché non è un camion è più un cattivo è un alleato e avere un saia anni in più che si che si trasforma vuol dire avere più chance di di fare da marrata per il futuro almeno nel film c'è uscita cilai top lei e beh certo perché non ti puoi segare su pan ea però almeno c'è sei vista bulma a pecora in super hero dai almeno sei visto bulma a pecora almeno sei vista almeno sei vista almeno sei vista almeno sei vista a un76